Buongiorno, sono Simone, questo è il villaggio, chilometro 48, dove adesso ci troviamo per appunto fare questa esperienza di volontariato e in questo momento stiamo andando verso una scuola birmana, insomma delle lezioni di inglese, che dobbiamo fare sia con un gruppo di volontari che praticamente insomma dobbiamo fare sia queste lezioni in inglese sia ai bambini che ai professori. Perché qui il livello di inglese è molto basso in generale e adesso siccome è vicina la scuola, insomma stesso in questo villaggio, ci stiamo andando a piedi. Normalmente le distanze qui sono lunghe, quindi qui normalmente ci si sposta sempre in macchina o comunque con altri mezzi, ma oggi siamo più vicini, questa è anche l'ultima settimana per molte scuole. Ciao, questo è il posto dove stiamo, molto bello. Adesso andiamo nella parte principale, dove dovrebbero esserci già i bimbi che ci aspettano, perché di solito noi nel pomeriggio facciamo un po' di oratorio con i bimbi che giocano e soprattutto un po' di lezioni di inglese. facciamo lo scopo di questo volontariato è soprattutto quello di insegnare un po' di inglese a questi bambini che sono a un livello molto scarso, quindi cerchiamo un po' di fare questo. Andiamo! Questa è l'altra struttura. vediamo se troviamo già i bimbi. Sì ci sono, andiamo, andiamo a vedere. Loro sono altri volontari che stanno con noi, la maggior parte sono francesi. stanno giocando al calcio, andiamo a vedere. stanno giocando a spazio. Allora, ehi, hallo. Ehi, hallo.